Piazza San Benedetto a Norcia, una piazza ferita ma in festa, in virtù di una rinascita. Noi abbiamo un personaggio, possiamo proprio definirlo tale, che per quanto riguarda tutto ciò che è rinascita, tutto ciò che è compensazione, tutto ciò che è storia della Valnerina, ne ha veramente da vendere. Vi presento Franco Lattanzi. Grazie. Grazie Franco per aver accettato il nostro invito, come sempre questo lo diciamo un po' a tutti, ma qui giochiamo in casa e prendiamo l'umine lei. Franco Lattanzi è un imprenditore di grosso livello di carne suina, ha una delle realtà più grandi del centro Italia per quanto riguarda la lavorazione e il commercio di carne suina, l'antica norcederia di Franco Lattanzi che si trova a Monte Compatri, vicino Roma, esattamente a 20 km da Roma, non vorrei sbagliare, esporta un po' in tutta Italia e in tutto il mondo. E Franco Lattanzi, dovete sapere, è nato qui vicino Norcia, tra Norcia e Cascia, in un paesino che si chiama Giappiedi. Ora, Franco è sempre tornato nella sua Valnerina, non ha mai lasciato questi territori ed è tornato particolarmente oggi con un animo, un po' diciamo così, come dire, rattristato per una realtà che ancora una volta subisce delle ferite, Franco. Sì, effettivamente diciamo sono rattristato in vari aspetti, perché? Perché uno ricorda da bambino la bellissima Norcia, la bellissima Cascia, i bellissimi paesi intorno. Oggi effettivamente sono più rovinati, più diversi, però una cosa importante è invece al contrario che ho trovato le persone, i nostri cari concittadini, gente abituata a terremoto, ma non così forte come è stato questa volta, sempre pronti a ricombattere. Infatti vediamo qui a Norcia già il raduno dei Lions, musica, eccetera, negozi che hanno continuamente di nuovo aperto. Cioè un popolo che non si arrende mai, un popolo molto unito, un popolo che sono come una grande famiglia, io l'ho vissuta da piccolino e ti dico la verità, sono a Roma come grandi aziende, quello che ti pare piace, però quello che ho vissuto qui da bambino e anche da ragazzo non lo potrò mai vivere in una città. Perché? Perché c'è un'unione particolare che ti aiutano con l'atto, ma tutti quanti sono uniti non nel senso di invidia, di gelosia, ma uniti nella sincerità, che è la cosa più bella della vita, perché è vero essere grandi imprenditori, importanti, ma molti ti guardano e ti vedono solo per interessi. Qui non c'è tanto l'interesse, c'è veramente l'umanità, che sono cose molto diverse. L'umanità, la reciprocità e soprattutto questa sorta di comunità coesa ed estesa. Quello che mi fa piacere di Franco Lattanzi, che non è il classico imprenditore divenuto tale che dimentica i suoi luoghi, ma lei è ancora più attaccato emotivamente da quando lei ha avuto la fortuna a Roma. Ma infatti tanto è vero che noi a Roma abbiamo questa antica norcineria chiamata proprio così perché per ricordare i nostri posti, la nostra vita eccetera, ma soprattutto anche perché vogliamo fare quei prodotti che facciamo qui, per ricordare le nostre tradizioni e riportare le tradizioni di un popolo a conoscere tutto il mondo. Questa è la realtà dei fatti. Cioè ci sentiamo come dei, se vogliamo chiamarli così, delle persone che vogliono far conoscere in tutto il mondo la bellezza di Norcia, di Cascia, di tutte queste cose varie, ma soprattutto anche per far conoscere il gusto dei nostri prodotti sinceri e genuini. Perché questo? Perché per noi postare questi prodotti significa anche dire, guardate, noi siamo capaci di fare questo. Infatti l'abbiamo visto anche col terremoto, i salumifici che sono qui, sono tutti ripresi, sono tutti rimessi in modo. Esportano in tutto il mondo anche loro ovviamente. Ognuno di noi ha la sua qualità, il suo prodotto un po' più particolare. Però la realtà dei fatti è che Norcia esiste da tantissimi secoli. Per sette volte è stata completamente distrutta dai terremoti e per sette volte è stata ricostruita i muri e tutto il resto. Cascia esiste da un tempo immemorabile, era una delle prime repubbliche, diciamo così. Cioè qui se tu ti racconti un po' la storia dei nostri paesi è particolare. Già nel 1500 per l'igiene, per i prodotti, ti voglio raccontare questa, nella storia di Cascia si dovevano separare le banche, cioè i banchi degli abbacchi da quelli del maiale e da quelli della bovina. Cosa che in altre parti del mondo non c'era. Non esisteva, non neanche lo sapevano. Esatto, noi a livello igienico era eccezionale. Perché? Perché c'è stata proprio una cultura di fare le cose. Da qui è partita tutta la lavorazione del maiale. Ma anche perché lei mi insegna che ogni tipo di carne è una lavorazione, è una conservazione diversa. Certo, ma soprattutto con San Benedetto che è stato un po' in tutte le parti d'Italia ha portato l'insegnamento anche del modo di vivere e di lavorare con il maiale. Per esempio qui c'è stata la patria del lavorare del maiale, poi è andata a finire il nord d'Italia in particolare e sono diventati industrializzati. Ma la realtà è che qui c'era lo stato brato dei maiali con tutte le querce che ci sono e quindi sono le ghiande ed erano lasciati liberi. Da lì poi si lavorava il maiale e tutto quanto, si facevano prosciutti e tutto. Ed è stato tra i primi in assoluto nei secoli passati. Quindi c'è un insegnamento storico di cui possiamo dire che da noi ci sono partiti i Santi e i Norcini. I chirurghi, i famosi chirurghi che operavano, mi dicono, nell'abbazia di San Teotizio che è stata fortemente penalizzata e che dal maiale passavano poi all'uomo. Parliamo sempre di secoli e secoli orsono. Mentre noi parlavamo, io e Franco Lattanzi, qui c'è stato un summovimento di automobili d'epoca ma questo testimonia praticamente la nostra, come dire, non dico rigidità, ma il nostro perseguire gli obiettivi. Non ci siamo mossi un po' come la popolazione della Valnerina. Una popolazione, una terra che trema, ma non trema la gente della Valnerina che anzi ha questo grande spirito di ricostruzione. La cosa che poi, francamente Franco, mi suscita un po' di magone è che questi terremoti si ripetono ogni 15-20 anni, quindi quando finiscono di costruire si ricomincia. Guarda, 15-20 anni sono terremoti normalmente abbastanza, diciamo, sostenibili però c'è la storia che insegna per esempio nel 1636 circa, quindi quasi 308 anni fa, se non sbaglio, quasi 350. Cosa è successo? Si spianò con un terremoto tutte le zone di Cascia, Norcia, i paesi intorno e c'erano proprio distrutti completamente, rifatti, diciamo, arrasati a zero con delle famiglie che sono scomparse come cognome. Però la realtà è di fatti che tutti quanti hanno rimesso in moto tutta la loro bravura. Ci sono palazzi del 1700 rifatti di nuovo, per esempio il paesino Mio Giappieti il 1700 rifatti è stato ricostruito un palazzo dai Patrissi per una famiglia ricchissima e altri ancora, io ce l'ho del 1603. Però quello che volevo dire in particolare, queste storie dei terremoti sono sempre ripetute ma sempre questo popolo ha combattuto, ha fatto le case migliori ancora infatti vedete che ci sono tante case antiche che non sono crollate forse sono più crollate quelle nuove oppure le chiese quando le hanno ristrutturate, non voglio parlare altre cose però tante case non sono crollate, tantissimi paesi intorno sono rimasti in piedi perché sono state fatte in determinato modo. Quello che volevo raccontare invece è la storia di Cascia, Norcia e poi anche Polumbria che è l'unico popolo che non ha avuto mai cavalieri o diciamo gente che andava a combattere per conquistare le terre, ma al contrario Predatori Predatori, ma al contrario sono stata sempre gente che sono andata a insegnare ad altri come lavorare la terra, come lavorare il maiale, quindi parliamo di San Benedetto di altri ancora, ma parliamo anche di persone che sono andate a insegnare agli altri cioè ad aiutare agli altri questo è lo spirito un po' di questo popolo aiutarsi uno con l'altro Un spirito missionario Esatto, da qui sono partiti tantissimi missionari e altre cose del genere perché? Perché è un popolo che ama la vita e ama anche l'amicizia ma è un popolo altruista tant'è vero che in tutte le parti d'Italia dove vai vai ma se vieni qui da noi facilmente ti regalano qualcosa quando arrivi pure io quando sto al negozio, no? all'azienda diciamo, arriva un cliente ma gli regali un salamino proprio per natura interna di come siamo nati Ricordo ancora il carico di porchetta che mi hai fatto fare qualche mese fa Esatto, infatti da noi paesino lì quando arriviamo chi ci regala le uova, chi ci regala l'insalata c'è proprio una tradizione interna dell'animo cioè il dare, non tanto ricevere cosa che in tutte le parti del mondo ormai non c'è perché è diventato un egoismo totale e questo fa di queste zone qualcosa di pregiato, di particolare come i prodotti Io mi auguro una cosa che le nuove generazioni che invece si prendono quelli che sono gli insegnamenti dei padri non si facciano forviare da questa realtà così come dire mercantile da questa sorta di, io lo chiamo PIN quasi come il PIN del Bancomat impossibilità di permeare attraverso certe realtà certi circuiti quindi perde non solo la propria cultura, la propria essenza ma anche la propria generosità questa è una preoccupazione che ho tu vedi che è in atto questo processo anche nelle popolazioni giovani di questi comuni della Valnerina che tu conosci meglio di me? Beh diciamo che la Valnerina purtroppo nel 54 ha avuto un periodo in cui molte persone sono andate via sono emigrate perché diciamo dopo la guerra che cosa è successo non perché non stavano bene perché tutti hanno un pezzo di terra, una casa eccetera quindi sono tutti quei poveri ricchi poveri perché lavorano ricchi perché hanno la proprietà propria che è differenza di tanti Ma i ragazzi hanno recepito l'insegnamento dei genitori oppure si sono adeguati un po' a questo mercantilismo che c'è un po' diffuso dappertutto quindi l'interesse in primis? Guarda io posso dire che i giovani di qui non si sono mercantiggiati io posso dirlo con la mia esperienza ho dei cugini trentenni uno ha lasciato la banca è andato a lavorare nella sua azienda che il padre è morto cioè è stato male poi è morto e ovviamente c'è 100 mucche un ragazzo intelligentissimo e tutto si è messo a fare lì tranquillamente il lavoro delle mucche un altro c'è un'azienda agghiola 30 anni uguale da mattina a sera va a lavorare i terreni ce ne ho tantissimi di cugini giovani perché sono cugini terzo grade ovviamente molto giovani che tutti sono dediti a lavorare e nessuno vuol lasciare quello che c'è qui infatti si sta imparando adesso a portare la lenticchia a portare altre specialità diciamo dei legumi direttamente a Roma a vendere ma non vogliono muoversi di qui cioè le portano ai supermercati altre parti poi vogliono restare qui non vogliono abbandonare anzi di sera è un'esperienza proprio di sera a Cascia di un mio carissimo amico che è giovane pure lui agricoltore che si è sposato con una di Ciampino che è di Roma e vive a nord a Cascia gli ho detto ritorneresti a Ciampino manco morta in una zona aeroportuale è facile andar via anche dall'Italia a Ciampino per dire no per questo perché effettivamente quando vieni qui è un altro mondo un'altra vita e questi l'hanno capito la stanno apprezzando si danno da fare con le intenzioni forti ma nessuno vuole emigrare nessuno vuole andare via nel 54 fu un problema perché 54-53 era un'altra Italia sì era un'altra Italia ma c'era il problema grosso che le tasse arrivavano ma i soldi non giravano nell'agricoltura questo mi raccontava mio padre allora che succedeva per pagare le tasse si doveva vendere il vidello o la legna quindi quello che producevi poi andava fino a dovevi dare l'oro e si andava a fare la stagione d'inverno a Roma e poi si ritornava all'estate per fare le ferie si cominciava a lavorare il terreno poi quando si è finito tutto qui ricominciamo giù per fare le ferie a lavorare nel Magliare effettivamente è una domanda questa che l'ho fatta in maniera insidiosa perché sapevo che lei sarebbe arrivata su questo argomento noi testando comunque molti giovani seguiamo la Valnerina fin dopo le prime forti scosse di fine ottobre ci siamo resi conto che i ragazzi non vogliono assolutamente abbandonare questa terra ecco un imprenditore un imprenditore come lei come può essere d'aiuto per la ricostruzione di queste genti perché purtroppo sì la volontà c'è ma c'è anche un altro male italiano e forse questo è il male più brutto, atroce e ottuso che è la burocrazia guarda questo male oscuro che sotto un aspetto è come un tumore che distrugge l'Italia perché realmente la mangia piano piano è un problema veramente serio per la gioventù di qui e anche per tutte le altre attività di qui ed è difficile da essere il pari l'unica cosa si vorrebbero delle leggi nuove leggi tipo come qui che è stato il terremoto leggi di emergenza che si elimina la burocrazia chi vuole fare una casa sua con una casa di legno eccetera si dia la libertà di farlo perché hanno bisogno della loro intimità io faccio un esempio pratico amici miei a 75 anni 76 anni che sono di San Pellegrino quando hanno avuto la casa distrutta loro avevano la possibilità di comprarsi le case ma qui saltano tutti bene non l'hanno potuto fare perché non glielo facciano mettere uno di 75 anni si alza la mattina con la prostata che ha problemi con la moglie che ha problemi con l'intimità che hanno i 75 anni 70 anni che è molto diversa da quella che è una giovane vivere insieme all'interno di una diciamo chiamiamola baracca che forse è meglio di quelle che montano come tende eccetera e vivere tutti insieme lì ha un problema serio della sua intimità è molto diversa e qui hanno trascorso l'inverno esatto bisogno di cura bisogno di medicinali tante cose quindi perché uno che chiede dice guarda io ho il mio terreno e ci metto la mia casa la casa smontabile non è fissa è smontabile ma ti viene pure in aiuto caro Stato ti dice non mi dare i soldi ma la faccio da sola non so se mi spiego no non si può fare perché se no te la sequestriamo Salatanzi io sono leggermente più giovane di lei ma non ho mai capito questo paese che si chiama Italia francamente ancora una volta si erige su delle realtà su delle sovrastrutture inesistenti perché tanto le creano loro che creano solo difficoltà di smisura e creano assurdità vera e propria come questa lei considerate una cosa con la burocrazia si ferma l'attività commerciale l'attività commerciale porta prodotti in denaro cioè quindi si pagano le tasse dei comuni si prendono soldi si arricchiscono e possono fare lavori più facilmente anche se non li manda lo Stato se il popolo lavora il comune prende le zone dei soldi e ovviamente li spende per rimettere a posto le cose ma se tu blocchi questa situazione faccio un esempio pratico portiamola a livello nazionale se io blocco le aziende con la burocrazia le aziende che producono perché le aziende statali non producono gli impiegati statali non producono perché devono essere pagati da quelli che pagano le tasse l'unica che pagano sono le aziende con gli operai che pagano le tasse ma sono le aziende che danno i soldi agli operai se non ci sono le aziende non danno manco i soldi agli operai che pagano le tasse se le mettiamo in ginocchio figuriamoci se le mettiamo in ginocchio le entrate finiscono come sta succedendo in Italia e che cosa capita che mano a mano non gli basteranno mai soldi adesso siamo arrivati al 67% di tasse allora se uno è un percentuale assurda e dice guarda facciamoli lavorare perché dove c'è la produzione c'è la ricchezza ma gli americani sono tanto stupidi tutti i paesi sono tanto stupidi i cinesi sono tanto stupidi addirittura i giapponesi sono venuti da noi l'altra volta interessati a far produrre i nostri salumi in Giappone questa è una soprenutica di me dice sappiamo che è un'alta qualità perché loro vogliono mettere madi in Italy cioè l'antica norceria in Giappone in questo caso il vero made in Italy esatto per far vedere il prodotto tipico italiano quanto sia prezioso in tutto il mondo e allora date lo spazio alle aziende fateli lavorare lasciate in perde questa burocrazia che è poi è come se fosse un cane che si morde la coda perché burocrativamente quelli di burocrazia si muore si sono morti tanti paesi purtroppo fanno morire i cittadini non muoiono coloro che in realtà si mettono mettere in moto certi circoli così capziosi così insidiosi certi vortici che poi sono vortici astringenti contro la popolazione ecco sì perché la burocrazia è stata inventata dai borboni cioè in poche parole siccome i borboni non facevano niente per il popolo lo lasciavano proprio allo stato brato quelli quando andavano a reclamare ah devi andare da quello non devi andare da quell'altro no quello no quell'altro quell'altro alla fine si fermavano perché tanto non c'era niente da fare però non è più il regno delle due Sicilie si chiama Italia dal 1861 sarebbe il caso che cominciamo a prendere esempio da paesi a noi confinanti nemmeno guardare il Giappone o anche il Cile che è altamente sismico eppure questi problemi non ne ha sì ma guarda il Giappone come è organizzato diciamo tutto qua io stiamo dicendo un po' con amarezza questa burocrazia perché qui si è visto veramente quello che è successo con i terremoti cioè uno stato che si chiama stato la prima cosa che fa provvede ai suoi cittadini la prima cosa che fa l'emergenza sono i cittadini perché quello lo stato questo è un governo ma lo stato sono i cittadini perché a volte si convonte questo stato no no lo stato sono i cittadini è il governo che governa se sa governare o se non sa governare non vogliamo con questo critirare i governi diciamo i governi i governi in generale quello che conta è che i cittadini sappiano che ci abbiano sicurezza che ci abbiano aiuto hanno pagato le tasse hanno bisogno di essere aiutati qui Norcia e Cascia hanno bisogno di essere aiutati parliamo poi di Amatrice che distrutta completamente quindi devono fare in modo tale il più presto possibile farlo perché effettivamente queste persone se col tempo non sono aiutate può morire anche il sistema commerciale dopodiché succede un problema che anche le tasse non sono pagate per lo Stato italiano e a quel punto è una perdita ancora maggiore purtroppo questi primi tepori che lei sente vede questo sole ci danno il tempo che cambia che passa e quindi ci fanno capire che sta arrivando la primavera ciò significa che manca poco a un anno dal disastro del 24 agosto e qui ancora c'è tutto da fare tutto da rimettere in piedi solo lo spirito popolare ci tiene irti forte si è un spirito popolare talmente forte veramente da apprezzare ecco potrebbero apprezzarlo visto che in Italia parliamo sempre di cose negative eccetera potrebbero prendere esempio da questo popolo di capire come ci si risolleva poi si si risolleva ancora di più se c'è la collaborazione del governo se non c'è quella si si risolleva o quale ma non come prima e ovviamente per danni soprattutto per il governo perché a quel punto come figura non fa una bella figura come discorso economico fa un danno enorme quindi questo vorrei un po' svegliare su questo restituzione ricordarsi che dove ci sono le si disatte eccetera è lì il momento di far vedere la capacità di un governo ecco ma quello che mi preoccupa appunto che si parlava io in primavera faremo ecco è arrivata la primavera il tepore lo squarcio di sole l'ora legale e anche voglio dire gli odori che cominciano a sentirsi nell'aria ci fanno capire che comunque sia le stagioni si sosseguono ma purtroppo il mastodonte burocratico rimane quello che è non a caso vede l'attanzi noi siamo qui a piazza San Benedetto io l'ho definita una delle più belle piazze d'Italia dopo piazza Navona piazza Duoma Milano questa è meravigliosa questa piazza più di una volta abbiamo fatto dei servizi ci troviamo proprio a due passi da una realtà c'è un ristorante qui vicino che abbiamo fatto vedere in altri servizi è rimasto con le bottiglie rotte così com'era il 30 ottobre ecco quella è l'esempio quel ristorante quella situazione di uno spavento di un terrore della volontà di non ricominciare la nostra invece fermezza non ci siamo scossi neppure quando sono partite tutte quante le macchine d'epoca con i loro rombi rappresenta testimonia la tenacia la forza di questa popolazione detto poi da un grande imprenditore come Franco Lattanzi ora io chiudo con una nota di colore vede quella borsa lì? sì quella borsa di Alessandro Mastrini il nostro operatore non contiene in realtà tutti quanti filamenti microfonini vari quella è per la porchetta sarei portata a Postar che vuole fare un carico da lei dall'antica norcideria di Franco Lattanzi a Monte Compatri beh io volevo dare il maiale intero però se vuole quella borsa così piccola per la porchetta o per l'inguale si organizza con un tir lui è capace un pensiero molto diverso insomma lui è capace a organizzarsi con un tir grazie a Franco Lattanzi grazie a voi dell'intervista grazie di tutto cuore grazie anche per i messaggi che ha lanciato e per le testimonianze belle che ci ha raccontato grazie a voi grazie a voi grazie a voi